L'urlo liberatorio del Gastone Briliperi, tre minuti dopo la possibile beffa del gol dalla distanza di Gurioli, diventa un boato quando arriva la sicurezza dei risultati di Bucinese e Zenit Audax. Sì, adesso il sogno della Serie D è diventato realtà e il Montevarchi può brindare alla quarta promozione centrata nel giro di neppure sei stagioni. Davanti ad un pubblico che potrebbe battere per presenza, calore e attaccamento persino a tifoserie di Lega Pro, il sigillo alla cavalcata vincente arriva contro un irriducibile Fortis Juventus, organizzata in piena salute e che lancia un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per un posto nei play-off. Neppure il tempo di osservare sugli spalti sportivi che da anni non frequentavano il comunale e l'Aquila si getta a testa bassa nella mischia. Di Lascebbe ingirata all'insidia la Giovaniello quando il cronometro non ha ancora avarcato il minuto. Più volenteroso che lucido complice la tensione palpabile, il team di Rigucci ci riprova a ridosso del sesto, ma la ciabattata di Essussi è debole e non impensierisce i Mugellani. Tra i bianco-verde si mette in evidenza Costa che svaria su due fronti d'attacco e al quarto d'ora crossa sotto misura. Raspanti devia evitando il peggio. Spavalda è senza alcun timore reverenziale, la compagine di Stefano Calderini si fa vedere anche al 26esimo con Mazzolli che chiama Coppia alla respinta a mani aperte, poi la difesa libera. Nel momento migliore della Fortis è però il Montevarchi a passare. Stefanelli si porta sul fondo e chiama alla conclusione Rasoterra e Sussi, palo interno e sfera nel sacco. È la rete che vale la promozione e lo stadio ribolle ancora più di tifo. Eppure la pratica è lungi dall'essere archiviata. Al 38esimo l'incisano Betti si fa respingere da Raspanti la botta del Pari e nella ripresa l'incontro resta vivo. Fino al terzo minuto di recupero quando Gurioli con una sventola firma l'1-1. Indolore a conti fatti e allora la festa di una città può cominciare.